Oh, ciao bambini, mi riuscite? E sono Bim e sto seguendo il concerto dei Shishi Free a Berlino, la riunio, ho capito? Coi ferretti, i zamboni, i lannarelli, i Danilo Fatur, che una volta mi preparò anche da bere, quelle per garbè sta o questo? Ragazzo Emancipato, una gran canzone che nessuno si ricordava più, ma andate a fare quello, la cosa migliore sono state i miei amici, mamma, ciao, ciao!